Sostegno all'agricoltura e alle aziende, ma anche un miglioramento alla viabilità, una cittadella dello sport e investimenti sull'ospedale. Sono questi alcuni dei temi che il candidato sindaco del centrodestra Paolo Cavina ha trattato nei primi giorni di campagna elettorale. Il tema dell'agricoltura è un tema a me molto caro. Io credo che dobbiamo veramente rilanciare questo settore perché la città di Faenza nasce in un territorio vocato all'agricoltura. È il giardino d'Italia, secondo me, il nostro territorio, evacurato e quindi penso che sia veramente importante dare delle risposte anche da parte di un'amministrazione comunale a questo settore. Il civico, appoggiato anche da Lega e Fratelli d'Italia, corre per le elezioni comunali di Faenza e si propone come l'alternativa alle amministrazioni di sinistra. È chiaro che vogliamo creare un'alternativa. L'alternativa in un paese, in una città, è fondamentale. Non può che un gruppo politico, un pensiero politico governi una città per 20-30 anni. Ci vuole l'alternativa per riportare freschezza, per riportare cambiamento, per portare idee nuove, per portare una città a risplendere. Al di là dell'esperienza politica, Cavina lavora in un'importante cooperativa agricola del territorio. Il suo slogan è il sindaco di tutti. Siamo un grande gruppo, tutte persone che comunque vengono dal mondo del lavoro, tutte persone che potranno dare la loro esperienza per rendere la nostra città più viva e più bella. C'è da mettere in cantiere dei lavori che andavano fatti 20 anni fa, quello della viabilità a Faentina. È un grande problema, soprattutto per la tangenziale a valle. Ma non solo, secondo me c'è da mettere in rete proprio anche tutti quei campi d'azione che ruotano attorno al turismo. È una città che va rimessa a nuovo, sia nella viabilità, sia negli accessi ai servizi e sia nell'aspetto sanitario per le specializzazioni. Grazie a tutti.